Il Faro di San Giacomo come un'attrattiva turistica e partendo da questo presupposto che l'amministrazione comunale ha intenzione di chiederne la fruizione all'ufficio circondariale marittimo di Via Libotti diretto dal tenente di vascello Luca Montenovi. Al fine di valorizzare il ricco patrimonio di cui la città dispone, si legge in un documento diffuso dall'ufficio stampa di Palazzo di Città, il sindaco Angelo Cambiano con una nota indirizzata al comandante del porto ha chiesto la disponibilità alle competenti autorità marittime al fine di poter rendere fruibile e visitabile il faro. Il Comune ha inoltre dato la disponibilità a qualsiasi confronto per stabilire le modalità organizzative necessarie ad una possibile e corretta fruizione. Sulla richiesta è arrivato il commento del primo cittadino il quale ha specificato come insieme ai siti storici archeologici e monumentali del patrimonio comunale il faro di Licata che sin da quando è stato realizzato nel 1894 è diventato il simbolo stesso della città, una città che vedeva nella realizzazione di un faro di queste proporzioni il suggello di una frenesia economica senza precedenti merita di essere annoverato tra le mete turistiche di maggiore pregio della città. A Lanterna, come viene affettuosamente chiamato il faro di San Giacomo dai Licatesi, è senza dubbio un motivo di curiosità per turisti e visitatori che oltre ai siti archeologici del centro storico e alle chiese presenti in città hanno come tappa pressoché obbligata anche uno scatto sotto l'imponente struttura posta all'interno dell'area portuale. La palla per la decisione passa adesso tra i piedi della Capitanieri di Porto cui spetterà a decidere se acconsentire o meno all'apertura al pubblico del faro.